Andrea Iannone, Light Galeotti Al popolo del web nulla sfugge e ora che il pilota di MotoGP è tornato single l'attenzione è massima Fino a poco tempo fa Iannone e Giulia Dell'Elli serano una cosa sola Poi l'amore è arrivato al capolinea e, a stare a sentire il gossip L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex cefina è già tornata tra le braccia di Andrea Damante Ma in queste ultime ore il gossip sta travolgendo Iannone per via di certi movimenti sui social che non sono passati inosservati Lei? Un'altra ex protagonista del dating show di Maria De Filippi anche se meno nota, almeno bell'ora, della Dell'Ellis, oggi influencer seguitissima E, come lui, da pochissimo tornata single Stiamo parlando di Veronica Burchielli, la ex corteggiatrice, e poi tronista, di Uomini e Donne che qualche ora fa ha confermato la rottura con Alessandro Zarino La bella Veronica ha spiegato a tutti che, nonostante abbia provato a salvare e difendere quella relazione con Alessandro, ogni suo sforzo è stato vano e i due hanno preso strade opposte Ma proprio dopo le dichiarazioni della Burchielli, come riporta il giornale, Amedeo Venza, altro ex volto di Uomini e Donne, lanciava lo scoop che riguarda lei e Andrea Iannone Punto sta per nascere una nuova coppia, ma credo dobbiamo attendere il dopo quarantena Ha commentato Amedeo Venza su Instagram con tanto di screenshot dei like di Veronica Burchielli ad Andrea Iannone Io vi posto lo screen, che dimostra i like sulla foto di Iannone Non vorrei che la Burchielli magari ci ripensa e lo toglie Naturalmente non è arrivata ancora alcuna conferma, o smentita, da parte dei diretti interessati, ma il gossip sta facendo il giro della rete Chissà, magari dopo l'addio a Giulia Delelli Sianone, che nelle ultime ore non ha risparmiato frecciatine alla ex Ha deciso di voltare pagina iniziando una nuova conoscenza con un'altra ex di Uomini e Donne